Erano conservati in sacchi e cassette i resti ossei umani rinvenuti in una stanza chiusa e murata all'interno del cimitero di Colle Madonna di Pescara. La scoperta, che abbattendo dei muri è stata fatta dai dipendenti della ditta, che in questi giorni si stanno occupando dei lavori di consolidamento e riqualificazione di uno dei due cimiteri cittadini, ha messo in allarte il Comune, che ha voluto chiarire la vicenda oscura per bocca del sindaco Carlo Masci. In questi giorni stiamo facendo lavori di consolidamento al cimitero di Colle Madonna. C'è un'impresa che sta lavorando per sistemare una zona ammalorata e abbandonata da tempo in dissesto idrogeologico e per realizzare circa 70 nuovi loculi. Durante i lavori però sono state rinvenute alcune cassette e poi sono state recuperate alcune buste all'interno delle quali c'erano ossa umane, erano dentro una stanza chiusa e murata, quindi non era possibile accedervi. Questo è successo soltanto perché sono stati abbattuti dei muri, abbiamo immediatamente informato la ASL e la procura di questo rinvenimento, abbiamo verificato che quelle ossa si riferiscono a situazioni degli anni 70, cioè defunti nel periodo 60-70 e esumazioni effettuate nell'anno 80. Quindi parliamo di una vicenda che risale a circa 40 anni fa, a testimonianza del fatto che da 40 anni non si facevano interventi in quella zona. Noi siamo intervenuti per riqualificare un'area che era abbandonata, abbiamo avuto questa sgradita sorpresa. Adesso si faranno le indagini del caso, in base alla legge la ASL è già intervenuta sul posto, la procura interverrà nei prossimi giorni, poi provvederemo a fare in modo che queste ossa vadano nell'ossario comunale, però è una vicenda certamente che ha dei contorni oscuri ed era giusto che la città la conoscesse. Per questo che oggi abbiamo indetto una conferenza stampa per chiarire questa vicenda che è venuta fuori, che è emersa per i lavori che noi stiamo conducendo. Colgo l'occasione per dire che tra qualche mese ci saranno 70 nuovi loculi a Colli Madonna in modo che potremo riaprire anche le tumulazioni nel nostro cimitero dei Colli.